Musica Buon pomeriggio e ben ritrovati al consueto appuntamento con informazione in diretta su Telebari e Radio Bari. In apertura parliamo delle elezioni del Collegio degli Infermieri di Bari. Troppi punti oscuri hanno portato all'annullamento della procedura e a una battaglia che potrebbe continuare nelle aule di tribunale. Oggi gli avvocati del Presidente uscente hanno convocato una conferenza stampa. Allora vediamo come procede la vicenda. 54 schede elettorali con la stessa calligrafia e compilate con matite non copiative, porte chiuse durante le votazioni e molti altri punti scuri ci sarebbero dietro l'annullamento delle elezioni del Collegio degli Infermieri di Bari. Si sono tenute dal 30 settembre al 2 ottobre, incominciate con qualche polemica, sono terminate con esposti in procura. A denunciare immediatamente quelli che sembrerebbero veri e propri borogli elettorali, uno dei tre candidati alla Presidenza del Consiglio, Francesco Germini, della lista Cambiamo Insieme. Un seggio elettorale allestito in un punto che non era osservabile dall'esterno, come ad esempio il fatto che durante lo spoglio, quando c'è stata la situazione di anomalia, c'è stata rifiutata la richiesta di poter verificare le schede, sia quelle già scrutinate che quelle ancora da scrutinare, c'è stata negata la possibilità di sapere con certezza dove fossero le schede inutilizzate, tutto questo naturalmente non dà un'immagine proprio chiara di quello che può essere accaduto. Due le denunce arrivate sul tavolo della Guardia di Finanza il giorno dopo le elezioni. Il 13 ottobre il presidente uscente dell'IPASVI, Saverio Andreula, deposita la denuncia in procura. Bisogna vederci chiaro e le elezioni vengono annullate. Riteniamo che questa situazione di per sé rappresenti una gravissima intemperanza da chiunque è stata commessa e abbiamo chiesto alla Procura della Repubblica di sequestrarci queste schede, di analizzarle nel dettaglio, di fare eventualmente perizia calligrafica per individuare i responsabili. Oggi i toni sono pacati, ma questa è una guerra a colpi di denunce che vede schierati in trincea gli avvocati di ciascuna parte. Una battaglia che sarà disputata nei palazzi di giustizia perché ora la palla passa alla magistratura. Come si intende ricollocare gli oltre mille emigrati attualmente presenti nel CARA di Bari? Cosa intende fare nel CARA stesso? I rappresentanti in Puglia di noi con Salvini si recano dal prefetto di Bari. La prefettura ha smentito la chiusura del CARA ma non ha smentito un eventuale ricollocamento dei clandestini e dei veri pochi profughi all'interno delle comunità della provincia di Bari attraverso i cosiddetti centri di accoglienza straordinari. Come si intende ricollocare gli oltre mille emigrati attualmente presenti nel CARA e cosa si intende fare del CARA stesso? I rappresentanti in Puglia di noi con Salvini si recano dal prefetto di Bari per ottenere risposte. L'idea dell'accoglienza diffusa non li convince per diversi motivi. Noi con Salvini lega in Puglia ovviamente dice di fare molta attenzione perché la situazione nei paesi è esplosiva. Faccio l'esempio di Altamura, una città di 70.000 abitanti ha solo due pattuglie dei carabinieri che un giorno sì e l'altro pure devono stazionare davanti al centro di accoglienza straordinario perché lì dentro ci sono numerosi disordini. Noi siamo per l'accoglienza dei veri profughi, chiediamo alla prefettura di snellire le pratiche del riconoscimento, di espellere chi non ha il diritto perché una volta al governo rivedremo tutto questo sistema di accoglienza che purtroppo i cittadini pagano quotidianamente attraverso episodi di criminalità. E non solo, chiedono anche che al quartiere Libertà da domani mattina il prefetto mandi una nota al comandante dei carabinieri e al questore per avere maggiori presidi delle forze dell'ordine. Che al giardino Mimubucci sia immediatamente disposta alla presenza costante di un guardiano e che infine il bando del cara venga rivisto perché 160 lavoratori, ha commentato il consigliere comunale Giuseppe Carrieri, hanno problemi seri su quel bando completamente sballato con il costo medio del pasto, solo per fare un esempio, che passa da 5,80 a 12 euro. Esercizi pubblici, automobilisti e cittadini extra comunitari controllati dalle forze dell'ordine è un'operazione effettuata nei giorni scorsi che ha portato all'identificazione di 300 persone di cui 122 con precedenti penali. Tra questi 5 cittadini georgiani sono risultati irregolari sul territorio nazionale, mentre un albanese è stato identificato come destinatario di un mandato di arresto europeo, emesso dall'autorità giudiziaria tedesca e quindi arrestato e condotto nel carcere di Bari in attesa di estradizione. L'uomo è accusato di aver commesso reati contro il patrimonio in Germania, invece 65 i migranti fermati, di questi 41 sono risultati volti noti alle forze dell'ordine, oltre 3.500 i veicoli controllati mediante sistema automatizzato Mercurio che ha portato alla scoperta di due auto rubate, infine 8 gli esercizi pubblici sottoposti a controllo amministrativo. Sanità in Puglia, bisogna reagire, il gruppo pugliese di Direzione Italia lancia un appello ai cittadini, l'obiettivo per il capogruppo Ignazio Zullo, svegliare il governatore pugliese e assessore alla sanità Michele Emiliano. Sanità bisogna reagire, questo avete detto. Sì, bisogna reagire e speriamo, il sogno nostro è quello che almeno in questa occasione di consigli monotematici sulla sanità, già il 10 e il 24, si sveglino le coscienze di questa Puglia, che ci sia una reazione collettiva e che si svegli dal torpore questo nostro governatore che ambisce ad essere governatore della Puglia, assessore alla sanità, capo corrente a livello nazionale, premier e quant'altro ci possa essere nell'universo mondo, non è così, non è possibile che la Puglia abbia maturato dentro di sé la normalizzazione di dati che normali non sono, mi spiego meglio, cioè non è possibile che io vado da medico curante e mi dice forse tu hai un tumore, devi fare una risonanza, mi rivolgo alla ASLO, all'ospedale e dice devo fare una risonanza perché è probabilmente un tumore e mi dicono tra tre anni e io dico ma è normale, tra tre anni, non è possibile, non è possibile che avvenga questo. Quindi le vostre proposte concrete quali sono? Le vostre proposte concrete è di chiamare a raccolta perché noi da soli non ce lo possiamo fare, la Puglia non si risolleva perché una parte della politica dice, 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 abbiamo bisogno di essere accompagnati dalle organizzazioni sindacali e dagli operatori sanitari, dagli ordini professionali, dalle associazioni di categoria, dalle associazioni di tutela dei diritti dei malati perché facendo reazione collettiva noi non dobbiamo far del male a nessuno, non dobbiamo far del male ad Emiliano, noi dobbiamo solo svegliarlo. Niente pare essere cambiato dopo l'irruzione del ragazzo della frutta all'interno di uno studio legale lo scorso luglio, nonostante le segnalazioni alle forze dell'ordine susseguitesi nei mesi successivi fino ad oggi, il giovane sembra continuare a molestare i cittadini baresi imponendo a chiunque li capiti a tiro di comprare della frutta in caso di rifiuto e reagire con violenze verbali, in alcuni casi anche con aggressione fisica. Il soggetto questa volta avrebbe scelto l'asilo Nido Villari per la sua vendita porta a porta, il personale all'interno della struttura, secondo quanto ha preso, ha provato ad allontanare il ragazzo che di tutta risposta avrebbe reagito in maniera violenta provando ad aggredire il personale e immediatamente sono stati chiamati i carabinieri che quando sono arrivati sul posto non hanno trovato nessuno. Il turismo della Puglia e il petrolio dell'Italia, si è parlato anche di questo durante il meeting che vede insieme i principali esperti del settore con le istituzioni locali. La Puglia mette in vetrina le sue bellezze per incentivare turismo e cultura. Per cinque giorni consecutivi, buyers internazionali e istituzioni locali si sono date appuntamento nell'aeroporto Carol Vuitila per la Meeting and Travel Experience. Secondo le proiezioni degli addetti ai lavori, il 2017 sarà l'anno dei record per le transazioni in albergo in tutta Italia. I numeri in Puglia sono tra i più elevati, tanto da definire il turismo pugliese, il petrolio e dello stivale. Ma non basta la stagione estiva, la Puglia deve aspirare ad essere meta turistica per tutto l'anno e le strategie regionali non bastano, fascino e organizzazione devono andare di pari passo. Ora bisogna potenziare sempre di più l'accoglienza, utilizzare un meccanismo del tipo una stella in più per ciascuna struttura in maniera tale che aumenti la qualità delle strutture e quindi si attragga turismo che spende in misura maggiore e nello stesso tempo collegarsi con le infrastrutture, metterle sempre di più in rete e lavorare su un pubblico privato particolarmente soddisfacente. Sollecitare investimenti vuol dire così saper sfruttare bene i pubblici inutilizzati, in questo un ruolo principe lo investe l'Agenzia del Demanio. Ci siamo messi da circa tre anni con l'avvento del nuovo direttore generale Roberto Reggi, ci siamo messi al servizio della comunità per un ruolo di facilitatori nella miglior destinazione, nella miglior messa a reddito di immobili di proprietà, non solo dello Stato ma anche degli enti. I giovani rappresentano il potenziale di sviluppo del Paese e per questo dobbiamo rivolgere loro la massima attenzione attivando adeguate politiche attive del lavoro o procedute da formazione e competenze tali da allinearci ai migliori standard internazionali. Lo sottolinea in una nota la sottosegretaria all'istruzione, università e ricerca senatrice Angela Dongia che domani al Castello Svevo di Bari parteciperà al tavolo tematico dedicato a Il Potere dei Giovani nell'ambito della diciottesima edizione del seminario Donne, Economia e Potere della Fondazione Marisa Bellisario. Il mercato globale richiede e prosegue la Dongia sempre più competenze di livello e molto specifiche pertanto il tema della formazione per le giovani generazioni e la riforma del sistema educativo devono essere al centro di politiche mirate a lungo termine. E oggi si celebra la festa della gente di mare, incontri e convenni tutto il giorno su temi che vanno dalla riforma delle autorità portuali, i porti di Puglia, le risorse del mare, e la tutela del suo patrimonio culturale e paesagistico per finire con i luoghi della cultura e la spiritualità della gente di mare. Tra i leratori Monsignor Franco Langzolla, parroco della cattedrale e Ugo Patroni Griffi, presidente dell'autorità portuale del Levante. E per questa edizione è tutto, in chiusura come di consueto vi ricordo i nostri siti internet telebari.it e radiobari.net e ora vi lasciamo al meteo, grazie per averci seguito. Ben trovati a un nuovo appuntamento meteo, giornate di venerdì sempre con l'anticiclone sull'Italia, anche se un fronte freddo in arrivo dal nord Europa valicherà l'arco alpino proprio in giornata, in serata vi sarà molta variabilità anche sulla parte adriatica, proprio tra Marche ed Abruzzo, tra tarda sera e notte sarà possibile qualche veloce, piovasco, poco da segnalare altrove, andiamo a vedere la nuvolosità, solamente correnti di libeccio sul medio alto tirreno, quindi dal Levante Ligure fino a Toscana, Lazio, quindi delle nubi basse di passaggio ma senza particolari effetti, eccolo qui in serata il fronte freddo che valicherà le Alpi, qualche nube di passaggio e come detto qualche piovasco solamente sul medio adriatico, entro la notata, andiamo a vedere la mappa in sintesi, ci fa vedere una giornata nel complesso stabile, appunto della nuvolosità che interesserà il medio alto tirreno, senza grosse conseguenze al più qualche isolata a gocce di pioggia ma guardate altrove, delle ampie schierite, clima in prevalenza asciutto, temperature massime, comprese tra 20 e 23 gradi su un po' tutta l'Italia, con questo per il meteo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Grazie a tutti! Grazie a tutti.